Tutti i personaggi e gli eventi di questa canzone sono del tutto immaginari. La seguente canzone contiene un linguaggio scurrile e per il suo contenuto non dovrebbe essere ascoltata da nessuno. Io sono umano, umano. Io sono umano, umano. Scusa, io sono umano. I miei mogli siano tutti esauriti, tutti desideri esauditi come Renzi quando si è preso 80.000 petrol dollari sauditi 80k che si toglie il volo privato, i salatini e le spese ma non è vero che per fare i soldi dovevo sapere l'inglese anche se Renzi non lo vuole ammettere, i sauditi non amano mettere ai giornalisti il babaglio, li mettono direttamente nel bagaglio a mano invece io se domani faccio una dv per i kinder pinguì rompono il cazzo, a me il mio condominio, mia nonna, i miei cani, i miei zii un ex premier che fa complimenti sotto dettatura a una cazzo di dittatura che cattura e taglia la testa e gay perché contro natura d'altra parte sappiamo che i capi di stato sono un poco ingenui infatti non hanno dubbi sulle cause ufficiali di morte di Giulio Reggeni noi italiani possiamo contare sui nostri fratelli, siamo tra i dieci paesi più belli e nel dubbio chiamiamo a cantare Bocelli Bocelli è come portare lo spumante se ti invito a una cena buonasera, buonasera l'unica differenza tra lo spumante ed Andrea è che Andrea va ad un'assemblea che è una messa in scena dove si grida Bill Gates è un'aliena che ci spara il 5G in vena come Amazon, Amazon quanto mi hanno rotto il camazon voi lo arricchite sto Amazon io mi faccio arricchire da Amazon la meloni che grida allo scandalo boicottate la mafia di Amazon e comprate il mio libro io sono Giorgia oddio ma è primo su Amazon Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovandi in Italia i migliori non riescono mai a superare i vent'anni ieri volevo informarmi su tutte le nuove proposte fatte dalla Lega se ti da un pugno sei legittimato a sparare nel petto della tua collega e pensare che l'eutanasia in Italia sembrava una cosa autopistica quando per morire qui basta dare un pugno in faccia ad un assessore leghista sparagli Piero, sparagli al nero miragli al cuore e non mirare al cielo che tanto se ti fanno il test antidoping tu oggi hai bevuto solo coca zero non avere paura ammazzare fa parte della natura si dimentica in fretta e poi siamo in pochi a guardare un giorno in pretura a auch un'altra a 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 Grazie a tutti.